Ciao a tutti e bentornati, oggi vi presento quelli che sono i nostri nuovi arrivi, quindi i nuovi arrivi di mercerietaliartisan.com, il nostro shop online, la nostra merceria online e ovviamente anche i riassortimenti. State vedendo qui 5 meravigliose cakes enormi, gigantesche chilometriche e queste sono delle novità, proprio in queste tonalità di colori sono una novità assoluta per la nostra merceria, si tratta quindi di delle cakes soufflé, ma nella particolarità del monocromo, quindi soufflé lux, quindi soufflé con lurex, come vedete anche dalle immagini, con un monocolore. Nello specifico abbiamo preso per voi 5 colori bellissimi, partiamo subito con questo nero, guardate che meraviglia, con lurex argento, stiamo parlando di un filato sottile, quindi si lavora con l'uncinetto, 3 ferri uncinetto 3, 3 e mezzo e ha dell'urex inserito all'interno, che io spero si riesca a vedere bene dalla fotocamera, è proprio inserito all'interno del filo stesso, quindi lavorato ad unico capo e quando andremo appunto a lavorare all'uncinetto, adesso vi mostrerò un piccolissimo campione che ho fatto il nostro progetto, il capo non si, i capi diciamo non si divideranno, come composizione abbiamo un 80% cotone, 10% poliestere e 10% lurex, queste cakes pesano circa 310 grammi e hanno ben 900 metri di filo, quindi per questo dicevo chilometriche con una cake di queste potete tranquillamente realizzare un vestitino ad esempio, quindi progetti grandi, ho un mega chalet molto molto bello e ovviamente elegante per via dell'urex, quindi vi presento i colori per questo soufflé lux monocromo, abbiamo il nero, abbiamo questo elegantissimo e intramontabile grigio chiaro, sempre con il suo lurex argento all'interno, vedete che bello ed elegante, eccolo qui, come terzo colore anche lui ovviamente un classico è il blu, è un blu notte, molto molto bello ed è un tantino più chiaro del del nevi, come potete vedere dalla dalle immagini, però è un classico con argento, con lurex argento e quindi risulta elegantissimo, ad esempio anche per un capo da sera, anche lui, poi abbiamo elegantissimo, super elegante e molto estivo, color sabbia con il lurex oro, guardate che meraviglia, eccolo qui, e alla fine il bianco con il quale ho fatto il piccolo campione, guardate che risulta elegante una volta lavorato, io sono andata a lavorare con uncinetto 3, ho fatto un piccolissimo campione a maglia alta, proprio per farvi vedere come rende una semplicissima già mai alta lavorata con questo filato, quindi il lurex è elegantissimo e si interseca benissimo nella lavorazione, quindi questo bianco che per l'estate direi è immancabile e stra amato, è il nostro quinto colore che abbiamo voluto proporvi per questa tipologia di filato, ed eccoli qui tutti insieme, ed ecco un altro souffle lux nella particolarità appunto dello sfumato, stiamo parlando sempre di 310 grammi circa a cake e abbiamo sempre 80% cotone, 10 poliestere e 10 lurex, abbiamo queste quattro colorazioni che abbiamo riassortito perché le avete fatte fuori il mese scorso, non appena sono arrivati come novità, quindi questo è un riassortimento, abbiamo quindi questo con le tonalità del sabbia chiarissimo all'esterno e poi passa per le tonalità del lilla all'interno e sfuma verso un grigio chiaro, ovviamente il tutto è accompagnato dal lurex sempre presente, quindi anche durante tutta la sfumatura della nostra cake, in questo caso nel color argento, quindi molto molto belle e particolari perché appunto sfumate, un classico altro colore che ci avete richiesto in riassortimento e che avete amato veramente tantissimo appunto perché è intramontabile è la cake nera all'esterno che sfuma verso il grigio e finisce in bianco all'interno, anche lei è accompagnata da un filo di lurex ovviamente in argento, anche in questo caso lo potete apprezzare meglio all'esterno perché fa contrasto col nero e quindi accompagna tutta la nostra cake e la rende super elegante. Poi abbiamo un'altra colorazione molto molto bella, partiamo da un color terra all'interno, un marrone bruciato che poi passa e sfuma verso un color sabbia chiaro e termina con un celeste polvere all'esterno, anche lei ha il lurex argento all'interno e potete apprezzarla per tutta, questo lurex potete apprezzarlo ancora una volta, vi ripeto, per tutta la nostra cake, ovviamente sempre ben inserito all'interno e non si separa, cosa importantissima durante la lavorazione. Ultima ma non per importanza, anzi è quella che avete terminato prima di tutte le altre, la scorsa volta che ve l'abbiamo portata sul nostro shop e lei la gold, all'esterno abbiamo un sabbia e poi passa per un beige caffè latte all'interno per finire verso un bianco panna, quindi un bianco sporco all'interno. Anche lei è accompagnata dal filo di lurex per tutta la cake e guardate che meraviglia questo lurex oro che la rende super super elegante. Quindi questi quattro invece sono i colori riassortiti, le cakes lurex per quanto riguarda le nostre soufflé. E qui abbiamo le classicissime riassortiti anche i colori blu, questo grigio col borgogna e sabbia, riassortito il rosso nero bianco, bellissimo, è riassortita questa con i colori dell'unicorno, come la chiamo io, perché è un lilla all'esterno e ha dei turchese che sfumano al celeste polvere all'interno, bellissima e super colorata, molto molto estiva. Abbiamo l'ultimo pezzo che vi mostro adesso che registro il video di questa invece, che è una bellissima cake dal colore amaranto all'interno, ciliegia e poi rosa all'esterno, di questa ultimissimo pezzo. Quindi quando vedete questo video, se vi piace e la volete ordinare, sappiate che è l'ultimo pezzo. Quindi giù nel box informazioni vi lascio tutti i link utili appunto per andare a vedere. La novità di questo mese invece, portata insieme ai colori riassortiti, è questa qui, che è esattamente la sorella, come la chiamo io, di questa sabbia con il lurex, vedete? Così le potete apprezzare in entrambe le varianti. Quella con lurex oro, ma abbiamo voluto prenderla anche semplice senza lurex, perché comunque abbiamo visto che avete apprezzato così tanto questa con lurex il mese scorso, che abbiamo voluto proporvela anche senza, per chi magari vuole un capo elegante dai colori neutri, ma non luccicoso e quindi magari non desidera averci il lurex. Quindi questa molto estiva l'abbiamo aggiunta, come dicevo precedentemente, ai colori riassortiti, che sono guardate questo bellissimo blu che sfuma verso il celeste, il borgogna, sabbia e grigio esterno, bellissima e apprezzatissima anche questa, per le amanti del rosso questa è riassortita anche, quindi rosso esterno che sfuma verso il nero e diventa completamente bianca all'interno, quindi potrete optare per iniziarla dall'esterno o dall'interno a seconda quello che è il vostro gusto personale. E poi questa che dicevo prima ha i colori dell'unicorno, secondo il mio punto di vista è un lilla all'esterno, verde acqua e celeste chiarissimo all'interno, quindi queste fantastiche sfumature molto estive. Quindi questi sono i sei colori che trovate al momento nel nostro shop e vi ricordo andate a vedere giù nel box informazioni perché trovate tutti i link utili ai prodotti che vi sto mostrando. Un'altra cosa che volevo mostrarvi sono i fantastici uncinetti ergonomici a marchio Opry, è un set di 9 uncinetti con le mezze misure, completissimo, super resistente e la cosa bella di questo set è che il manico ergonomico in gomma antiscivolo meraviglioso è prodotto da questo marchio, opri appunto, li metto così riuscite a vederli meglio, è più corto dei soliti manici ergonomici di tutti gli uncinetti classici conosciuti e leggermente appiattito qui al centro, quindi facilissimo da utilizzare sia a penna che a coltello, sono leggerissimi, antiscivolo e quindi spettacolari, ha un prezzo piccolo piccolo, anche di questi vi lascio il link giù nel box informazioni. Abbiamo misure che partono dal 2 mm, di solito i due sono veramente molto, quelli diciamo di alluminio classici, molto deboli, si rompono facilmente, si piegano facilmente, questo ha una resistenza eccezionale, quindi ve li consiglio perché non solo sono belli e leggeri ma anche duraturi. Quindi partiamo dall'uncinetto 2 mm, poi abbiamo il 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, quindi tutte le misure più utilizzate e comunque ogni uncinetto ha una colorazione diversa così che possiate imparare anche col tempo magari a riconoscerli solo dal colore del manico. E quindi questo è un altro prodotto, ovviamente ha il suo blister in plastica dove potete richiuderli per tenerli al sicuro e non perderli facilmente. Un altro fantastico filato che voglio presentarvi e di cui sono veramente entusiasta, quindi felice di avervelo portato nella nostra merceria, è arrivato ieri, già state approfittando di questo filato, lo state acquistando, molte di voi lo conoscevano già, altre vogliono provarlo e io ve lo straconsiglio. Si tratta di una pura fibra di bambù, quindi 100% naturale, una viscosa di bambù che è lucida come riuscite a vedere dalla camera, è brillantissima, quindi questo filato è spettacolarmente morbido, è un qualcosa di indescrivibile, dovete toccarlo per capire quanto è soffice, quanto è morbido, quanto è fresco, perché il bambù è un filato traspirantissimo, ideale per l'estate. Quindi, detto questo, vi dico già che un gomitolo è da 100 grammi e contiene ben 440 metri di filato, quindi realmente con due gomitoli, ad esempio, potete realizzare tranquillamente una maglia. Abbiamo un metraggio meraviglioso, grandissimo, guardate, 440 metri. Si consiglia una lavorazione con ferri uncinetti 3-3,5 massimo, perché è un filato sottile leggerissimo e guardate che sfumature meravigliose. Partiamo con questa che ha il verde pistacchio chiaro, color menta bianco e qualcosa di grigio chiaro all'interno. Altro bellissimo colore più neutro rispetto al precedente, ma altrettanto apprezzato, è questo bellissimo colore che presenta le sfumature del marrone, ha all'interno un color bordeaux tendente appunto sul marrone, quindi un marrone vinaccia, tra un marrone e un vinaccia, poi ha il beige all'interno e il bianco sporco. È molto molto bello, un classico anche lui, apprezzatissimo. Come terzo colore vi presento questo bellissimo verde con del color lime all'interno ed il bianco anche, quindi sfumature di verde, vari verde, quindi dal verde chiaro al verdone, ancora vedete questo verde giallo che è un color lime, come dicevo prima, il bianco, bello bello anche lui, è molto estivo, ideale per gli amanti dei colori accesi. Ancora rosa e grigio con del bianco, bellissimo anche questo, e infine un colore che ho amato quando l'ho visto e che andiamo a scoprire anche aprendo un po' il gomitolo, perché a seconda di come sono gomitolati appunto, riusciamo a vedere una sfumatura piuttosto che un'altra, ma io ve le descrivo tutte. Abbiamo quindi del viola, lilla e glicine, quindi a sfumare, con del grigio chiaro e poi passiamo ad un color menta che riuscite a vedere qui all'interno, quindi bellissima sfumatura, ideale per donna e bambina. Quindi questi sono i cinque colori al momento disponibili nella nostra merceria online di bambù alizè, bambù fine appunto, però in versione batik, quindi versione sfumata. Abbiamo anche la versione tinta unita che vado a mostrarvi. ed eccolo qui il meraviglioso bambù fine, sempre a marchio alizè, ovviamente in tinta unita come state vedendo. Abbiamo ancora qualche gomitolo di rosso, quindi ve lo faccio vedere, giusto un paio di gomitoli e di questo rimasto. E poi tutto il riassortimento che trovate adesso in disponibilità. Partiamo con questo bellissimo verdone molto scuro, quindi un verde scuro ma molto brillante, stavo dicendo, che è ad esempio abbinato a questo fantastico rosa antico ed il color sabbia chiaro. Guardate che meraviglia! Potete abbinarli benissimo insieme e realizzare una maglia, un vestitino, un progetto multicolor molto molto bello perché trovo che siano stupendi questi tre colori insieme. Comunque potete realizzare un progetto anche a tinta unita, però ci tenevo a farvi vedere anche questa idea di insieme di colori. Quindi questi sono tre colori meravigliosi. Poi abbiamo come colori molto accesi ed estivi il giallosole. Io non so se si riesca a vedere quanto brillanti siano questi colori dalla camera, ma vi assicuro che lo sono anche tanto. Brillanti e lucidi, lucidissimi e la particolarità della fibra di bambù. Colore orchidea, colore giallo sole e questo verde smeraldo. Sono meravigliosi e ovviamente mi dispiace soltanto che non si riesca a percepire la morbidezza e la freschezza di questo prodotto già dal video. Ma vi assicuro che è uno spettacolo e due colori classicissimi che non potevano mancare intramontabili sono il nero che sicuramente non apprezzerete in lucentezza in video, ma per motivi ovvi perché il video non riesce mai a far percepire bene il nero ed il grigio, chiaro, che guardate che spettacolo di eleganza, è meraviglioso. Quindi questi sono i colori che trovate al momento disponibili per quanto riguarda il bambù fine a tinta unita. Un'altra novità ultima di oggi che vado a mostrarvi come arrivi sono questi rocchetti di lame. Si tratta di lame sottilissimo che va abbinato a un qualsiasi filato, tra quelli che vi ho presentato adesso o tra gli altri disponibili nella nostra merceria online, si tratta di rocchetti da mille metri ciascuno, quindi potete prendere un rocchetto e abbinarlo ad un progetto, quindi a un qualsiasi filato e realizzarci appunto un intero progetto. Questo lame abbiamo voluto portarvelo in tre colori classici, quindi argento, perlescente, quindi iridescente, vedete trasparente ed è semplicemente luccicoso e classico anche lui il color oro. Vi ricordo che anche il tinta unita del bambù fine alise come il batik, si tratta sempre dello stesso filato quindi in però colorazioni diverse, anche il tinta unita dicevo ha lo stesso metraggio 440 metri per 100 grammi e quindi un'ottima resa, anche lui ferri e uncinetti consigliati sempre 3-3,5. Quindi con questa breve panoramica di tutti i nuovissimi articoli di merceria Italia Artisan e riassortimenti io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti con me in questa video presentazione, vi ricordo che potete iscrivervi qualora vi faccia piacere al mio gruppo facebook di cui vi lascio il link giù nel box informazioni, quindi andate a vedere sotto il video, troverete tutti i link ai prodotti che vi ho appena presentato e non solo, quindi anche i miei social dove potrete appunto seguirmi se vi fa piacere. Quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.